Ripartiamo dal Cibo per valorizzare il nostro territorio, questo è il titolo dell'incontro che si terrà oggi pomeriggio alle ore 17 presso Palazzo Amaduri. L'iniziativa è organizzata dalla ONLUS Calabrese del Cric, ovvero il Centro Regionale di Intervento per la Cooperazione, dal Comune di Gioio Soioni che in collaborazione con l'Università della Calabria, nell'ambito del progetto Scala Nazionale Nuove Narrazioni. Il dibattito sarà aperto dai saluti del Sindaco Salvatore Fuda e dal coordinato, dalla responsabile del Cric, Francesca De Stefano. Vi saranno gli interventi di Francesco Macri, Presidente del Galle Terre Locridee, di Nicola Cravello, Presidente del Galle Croton, Maurizio Zavaglia, Presidente della Cooperativa Sociale Nelson Mandela. Il cibo è prima di tutto un diritto, ma il cibo è anche identità e cultura e legame con il territorio. L'accesso al cibo crea e mostra le disuguaglianze. Molto interessante sarà l'intervento di Massimo Rovai dell'Università di Pisa, che porterà l'esperienza di costruzione condivisa delle politiche del cibo della Piana di Lucca. I temi che saranno trattati toccheranno ovviamente tutta la cittadinanza, ma anche gli attori economici e le istituzioni locali che sono chiamate a designare le politiche nuove. Per tali ragioni estendiamo quindi l'invito a tutti quanti che vorranno partecipare, proprio perché verranno offerti interessanti spunti di riflessione.